Sarà trattato il 6 febbraio il procedimento penale contro Sebastiano Nirta, classe 71, imputato per quella che viene denominata strage di Duisburg, dei delitti di omicidio pluriaggravato e detenzione e porti di armi comuni da sparo in concorso. Per il 45enne Nirta si tratta del secondo giudizio di appello, dopo che la Corte di Cassazione, lo scorso 6 maggio, ha accolto il ricorso della Procura Regina, annullando con rinvio la sentenza che era stata disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, nella parte in cui ha mandato assolto l'imputato per la strage di Ferragosto 2007. I giudici della sesta sezione penale della Cassazione hanno invece confermato la condanna a 12 anni di reclusione, disposta in appello a carico di Sebastiano Nirta per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Come si ricorderà, il 45enne imputato all'esito del processo di primo grado era stato condannato dai giudici di Locri alla pena unica dell'ercastolo, mentre all'esito del giudizio di appello la sentenza è stata riformata con la condanna per l'associazione e l'assoluzione per l'ipotesi di aver preso parte alla strage di Duisburg, quando nei pressi del ristorante da Bruno furono assassinati sei giovani, per quella che gli inquirenti hanno ritenuto essere l'apice della faida di San Luca. In Cassazione ha concluso l'avvocato Pietro Catanoso, difensore della parte civile, amministrazione provinciale di Reggio Calabria. All'esito del giudizio della Cassazione è divenuta invece definitiva l'assoluzione di Giuseppe Nirta, classe 73, detto Charlie, difeso dagli avvocati Antonio Russo e Roberta Milasi, da ogni responsabilità riferibile all'ecidio di Ferragosto, per il quale imputato si legge in sentenza. Non sussiste alcuna lacuna valutativa degli elementi probatori acquisiti dal processo, posto che sulla più volte ricordata Renault Clio non è stata rinvenuta alcuna traccia biologica a lui riferibile.